Come sapete forte sconcerto in città per la notizia della morte di David Berghi, un bambino di soli 20 giorni morto a causa di una broncopolmonite. Come è noto la procura dei minori sta indagando sulle cause e sulle responsabilità di quanto accaduto. La ragione si smarrisce nello sconcerto del turbamento, è quanto si legge in un comunicato di Monsignor Antonio Allori, vicario episcopale per la carità. L'appello alla solidarietà sociale, più volte ribadito dall'Arcivescovo recentemente anche al Tedeum di fine anno, assume in questo momento una concretezza severa.